aurora ramazzotti insieme al compagno goffredo cerza e al figlio cesare ha deciso di trasferirsi in una nuova casa più ampia e confortevole la figlia di mischenziker ha mostrato in un video tutte le stanze dell'abitazione arredate nei minimi dettagli da aurora stessa la coppia ha preferito seguire il proprio gusto personale anziché chiedere l'aiuto di un interior designer tra le cicche della nuova casa c'è anche un regalo speciale di mamma michelle aurora aveva appena finito di ristrutturare il vecchio appartamento quando è arrivata la notizia della gravidanza con l'arrivo di cesare è diventato chiaro che lo spazio non era più sufficiente così aurora e goffredo hanno deciso di acquistare insieme una nuova casa ristrutturandola e arredandola da zero la figlia di michelle ha voluto mostrare tutti i dettagli della casa ai suoi followers con un video l'appartamento di aurora comprende una sala da pranzo un ampio salotto la camera matrimoniale quella del piccolo cesare una cabina armadio per i genitori una cucina uno studio un balcone e una stanza della musica con pianoforte e chitarra aurora ha gestito personalmente l'acquisto e la ristrutturazione optando per un arredamento con colori forti e una carta da parati variopinta la casa appare un po affollata nel video di presentazione ma il gusto di aurora è innegabile inoltre c'è un dettaglio speciale michelle hunziker ha regalato a cesare un luce che parla con la voce della nonna quando viene schiacciato un bottone un tocco personale che rende l'appartamento grazie a tutti grazie a tutti